può portare magari a qualche altro colpo di cena in positivo e per lo spettacolo quindi attendo di vedere un po' quello che avviene in questa settimana però sì, anch'io sono sorpreso sia che fossero in quel match e la maggior ragione che abbiano vinto posso farvi presente una cosa che a me ha fatto un po' girare le scatole in questa puntata forse la cosa che mi ha fatto girare scatole più di tutti anzi più di tutte dato che voglio parlare di donne prego mi spiegate perché di nuovo Britt Baker è il giro titolato? amen prego, parola a voi io penso che a me basta così è anche perché abbiamo comunque detto tante volte è un po' il personaggio il simbolo di questa categoria e che sai che quando hai un momento morto e non sai come sviluppare ci mandi più che altro che sta diventando sta diventando la Charlotte della Orelista praticamente come status come status no no hai detto tu Matteo cioè purtroppo ce la stanno infilando a forza in qualsiasi cioè è il problema un po' che ha non mi ricordo sì Charlotte appunto che fuori dal giro titolato non sanno costruire le faide perché in teoria è da mesi appunto che fanno il tease che potrebbero splittarla con con Jamie Hayter e fallo questo split cioè fai una fila comunque interessante avrebbero dovuto farlo mesi e mesi fa lo split adesso è molto molto raffreddato cioè non penso che adesso Britt Baker rivinga la cintura perché si è ben disastroso però anche solo vederla ancora nel giro titolato è un po' è un po' stufa sinceramente cioè potessi pure tenere la riposo cioè non fai brillare qualcun altro io Steve la butto lì secondo me l'hanno ributtata dentro per far passare un altro mese e poi passato l'altro mese magari ecco in uno degli eventi speciali che già hanno iniziato a fare dopo quel mese lì iniziano a fare il teaser tra lei e Tony Storm tra Thunder Rose e Tony Storm e andranno a scontrarci all'out con magari Tony Storm che gira Hill probabilmente probabilmente sì oppure se no sono nel solito limbo che sono in All Elite cioè più volte si vanno a scontrare chi è un legger quell'1% o più Hill rispetto a quella che è un per cento meno Hill è sempre così in tutto questo c'è Serena Dib che merita di più e invece fa un match riempitivo a Serena Dib la mandaranno a fare il match a Death by Dishonor è stato annunciato il match contro Mercedes Martinez quindi non lo so io anche lì non mi aspetto niente mi aspetto forse un buon match ma se lo conduce Serena Dib in toto perché nel caso in cui lo facessero facessero condurre a Mercedes Martinez secondo me è brutto molto molto eh ma deve vince Serena altrimenti non ci abbiamo capito niente di wrestling fino a il 14 luglio 2022 alle 21 e 32 se non vince Serena Dib ragazzi anche perché poverina ha perso ha perso già contro Thunder Rosa poi comunque ha fatto un lavoro talmente buono che non dare una cintura ok che è la terza cintura per importanza nella tra IW e Ring of Honor come come donne però almeno dalle qualcosa lo so ste però poi parliamo sempre della stessa situazione Serena è l'unica che là dentro riesce a fare il match decente ed è l'unica che sta sempre lontano dei titoli se non per i titoli minori l'abbiamo vista sempre lottare per i titoli o con i titoli quando aveva quello dell'NWA ma è rimasta sempre lì quando poi deve andare a fare un qualcosa di importante della All Elite non ce la spingono mai sopra eppure è quella che probabilmente lì dentro lotta meglio di tutti non a caso è la professoressa del wrestling detto dal prof vale di che ne pensi no ma secondo me io forse vedo magari Serena Dib più che come un competitor regolare magari forse più una figura di coach della federazione quindi secondo me magari anche dietro le quinte un po' l'accordo che lei a prescindere che sia campionista o no non è una cosa rilevante magari anche anche per lei perché magari il suo ruolo in termini dell'NWA Elite è quello appunto di elevare delle nuove lottatrici penso magari può essere uno uno scenario anche vedere che comunque negli ultimi mesi ha avuto un boost importante quindi ad oggi vederla magari luttare per il titolo e vincerlo non sarebbe così impensabile però magari come profilo forse per il quale magari non si ti tiene necessario affidare una cintura ma una collocazione diversa sì vediamo vediamo un po' che intenzioni hanno non so se vogliamo se volete possiamo fare anche un piccolo pensierino su Death by Dishonor che comunque la card è molto molto interessante la card è veramente molto molto interessante grazie Micheli grazie del follow grazie mille e non lo so se secondo me rischiamo di avere rischiamo di avere il match importante di nuovo uno dei potenziali match per candidati a match dell'anno ossia il rematch tra gli FDR e i Briscos poi è stato annunciato eh quelli contro Danny Garcia questo Giota è interessante perché se fanno Gresham contro contro il nostro Claudio può essere molto interessante come è certo mi dispiace per per Gresham il il nostro signore non gli ha dato tutto tutto quello gli ha dato in tecnica gli ha dato gli avrebbe potuto dare 20 centimetri di più purtroppo non gliele ha date e ci accontentiamo di un di di un super di un super mini uomo di un super uomo minuto anzi che combatte come veramente un dannato io più che altro come Giota dice vincerebbe Claudio nel caso siete sicuri quindi vorrebbero rendere la stable il Blackpool il combat club una stable della ring of honor perché in quel caso avrebbero due su quattro con il titolo il ring of honor perché avremmo Utah che secondo me non andrà a perdere e avresti avresti Claudio non lo so e poi Moxley campione interim Moxley campione Moxley campione farebbero già una bella incetta di di cinture vale secondo te invece che situazione potrebbe Giota dice addirittura che Garzia potrebbe vincere secondo lui Luca questo commento io non lo leggo però preferirei evitare questi tipi di commenti in chat è un pochino offensivo io infatti mi dissocio dal commento aiuta contro Garzia non so se uno è nettamente più favorito dell'altro perché comunque sai in ringofono al momento storyline show da cui attingere percezioni non ne abbiamo perché non è lì sia in uno spazio ma comunque molto marginale quindi ecco ad oggi magari si può dire che Giota può essere favorito però ecco anche Garzia è un personaggio con una buona considerazione reputazione fa parte di una stebole comunque rilevanti nell'elite quindi ecco se vince lui non sarebbe clamoroso non vedrei invece non sarei troppo convinto di vedere Castagnoli campione ringofono perché andrebbe un po' a spostarsi dal mondo o l'elite anche perché appunto l'elite ringofono partono l'elite però ecco l'abbiamo visto un po' con Iuta e con altri che quando entrano più nella sfera ringofono hanno comunque una percezione diversa all'interno degli show o l'elite quindi ecco magari non lo vorrei rivedere legato magari al rampage o comunque in segmenti non così rilevanti e importanti in uno show però è anche vero che per il suo passato la cosa non sarebbe neanche così è quello il discorso è il suo passato che lo lega troppo chiusura del cerchio potrebbe anche restarci può anche essere nel caso di eventi campione può anche essere una cosa magari di breve durata magari magari questo da dargli un riconoscimento un titolo post WWE però ecco una cosa che poi sarà probabilmente sarà così che poi lui possa tornare a concentrarsi per essere il titolo TNT o l'Atlantic o magari anche il titolo Massimo l'elite vedremo vedremo un po' sicuramente nella settimana sapremo qualcosina in più settimana prossima faremo anche il classico match non lo so strano che può succedere in uno dell'elite se non sbaglio c'è Kingston contro Jericho nel Bare Bad Wire con la Jericho Appreciation Society che sarà messa nella tipo gabbietta per squali sopra il ring perché ricordiamo che è luglio al mese degli squali la Shark Week su TNT mamma mia oddio io quando leggo queste cose veramente io non ridisco vedete non ce la faccio non ce la faccio a me viene in mente ancora Enzo Amore sospeso sopra il ring bellissimo bellissimo va bene io direi di rimanere un pochino a Jacksonville ma di collegarmi direttamente con Tokyo perché perché tra due giorni se non sbaglio anzi tra un giorno e mezzo perché lì è già quindici ci sarà l'inizio del G1 del G1 Climax e innanzitutto vi voglio chiedere un pronostichino a vale proprio all'inizio così secco chi potrebbe vincere e poi soprattutto in base a chi scegli come vincitore c'è anche un'altra discussione che è uscito oggi un tweet un'intervista che è stata fatta a Zack Sabre Jr che dice che nel caso in cui lui dovesse vincere il G1 non aspetterebbe il Tokyo Dome quindi lo show del 4-5 di gennaio di gennaio ma incasserebbe direttamente all'evento per questo il titolo London Trip in UK a un evento ad ottobre che dovranno annunciare secondo me lo annunceranno proprio tra un paio di giorni vale vai un piccolo pronostico veloce e anche delle considerazioni su questo su quanto potrebbe accadere con questo evento UK io ahimè da quando abbiamo visto un po' i nomi dei partecipanti e anche un po' la tipologia di questi 4 blocchi un po' sono rimasto un po' deluso appunto dal contenuto di questo G1 Climax e sappiamo che quando vedi Okada tra i partecipanti come vedi blocco A Okada al primo posto anche se è il campione uscente in carica del G1 Climax io pronostico nuovamente lui perché comunque è il nome di punto della federazione e se appunto guardiamo un po' i partecipanti a questo questo torneo non vedo chi può essere il più favorito di lui se non appunto magari un Naito perché non vedo possibili vincitori non giapponesi mi piace per Osprey magari anche per Cobb però non ci rivedo comunque il G1 Climax è una cosa sacra per i giapponesi e quindi sarà ricordiamo sempre che questo uomo l'anno scorso ha fatto i record ricordiamolo sempre poi per perdere da idiota l'unica cosa che io per una volta vorrei vedere il campione in carica vincere il torneo perché la cosa che insomma è assoluta che nel G1 Climax non vince mai chi ha la cintura quindi dovrebbe essere proprio un po' strano come cosa perché il campione dovrebbe essere quello più forte e invece neanche mai in finale quindi ecco magari mi tengo una possibile sorpresa con G1 Climax vincitore però ecco è una scommessa così che butto l'app il pronostico principale va a sua casa poi chissà se appunto magari la varigetta può cambiare di campione nel percorso perché poi appunto come diceva anche te adesso questa kingdom è in due notti quindi può essere anche magari il rottatore va per il titolo prima sera un altro la seconda quindi ecco chi ha la varigetta dovrebbe il 4 gennaio della prima serata però chissà che magari come ho avuto due o tre anni fa chi vince il G1 Climax magari perde la varigetta contro un'altra persona che poi magari li frega la title shot quindi poi i dinamici possono essere molteplici però ecco questo G1 Climax ricapitolando secondo me lo vince Okada vogliamo anche commentare lo show di ottobre o dopo che cosa terreno non è che cosa non è